Mi chiamo Max Calderan, sono un esploratore desertico estremo, ho 51 anni e ho attraversato e attraverso deserti completamente e totalmente inesplorati. Ho avuto il piacere di incontrare John Pepper la prima volta attraverso una telefonata che era stata anticipata dal console italiano in Emirati Arabi a Dubai. Da questa telefonata ho capito subito che mi trovavo di fronte sicuramente un grande professionista. La prima esperienza che ho avuto con John è stata rivolta a capire fino a quanto poteva sostenere una situazione di stress in un deserto in condizioni comunque che dovevano comunque simulare un'esperienza abbastanza, tra virgolette, estrema, perché mi richiedeva luoghi dove comunque non c'andava nessuno, per cui bisognava anche testare quello che era la sua sopportazione in termini di fatica, di tolleranza al buio da solo, eccetera. Quindi l'ho portato in Emirati Arabi nel deserto finale, la parte finale del deserto Empty Quarter, il Rubal Khali in arabo, è un deserto, la parte finale, che è la parte finale di 1200 km di sabbie incontaminate, non c'è nulla. Allora siamo arrivati, io e lui con la nostra auto, abbiamo fatto un piccolo camp, abbiamo acceso, io stavo preparando per il fuoco, stava arrivando il tramonto, lui ha cominciato a scattare e a un certo punto, mi ricordo ancora, gli dissi, John, vieni, vieni con me e ti ho trovato una location stupenda dove poter dormire questa sera e gli ho lanciato una tendina di quelle che si automontano, no? Gli ho detto, ecco, questo è il tuo albergo, 5 stelle, anzi, un milione di stelle. Di questo primo viaggio che abbiamo fatto insieme in Oman, parlo come viaggio, c'è stato prima una piccola esperienza in Emirati Arabi al confine con l'Arabia Saudita, però il primo vero e proprio viaggio in Oman di fatto è stato un non-stop di conversazioni dove in quattro giorni, se non ricordo male, abbiamo fatto qualcosa come, non mi ricordo se 4.000 km, cioè una mattanza, cioè dovevamo prendere le giornate dall'alba all'alba, dove c'era la luce migliore, e il tramonto, per cui tutto il resto delle ore, immaginate tutte quelle due ore mattina e sera, sono state dedicate a una profonda conoscenza reciproca. John è un vero professionista, ha un metodo di lavoro che è molto simile anche al mio nei miei allenamenti, se non altro. Si alza due ore prima che sorga il sole, dopodiché si prepara, nel frattempo studia un attimo quello che penso, non so se è la direzione del vento, il sole da dove sorge, dove potrebbe andare, e inizia la sua attività. Inizia la sua attività da Segugio, per cui con questa macchina Laika 35 mm, con pellicola, comunque questa Laika 35 mm, lui lo utilizza, prende e parte e va. E quando rientra, io la cosa che gli dico, mi ricordo la prima volta gli dissi proprio questa cosa qua, si è impressionante, lui è in osservazione, come un felino quando osserva una preda. E quando la targetizza, anche da lontano, con questa macchina fotografica, con la pellicola, in auto, vedi i suoi occhi che guardano a destra e a sinistra, vedi proprio l'occhio del felino che cerca la preda, all'improvviso ti dice fermati, 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 scende e comincia a camminare o a correre. Io nello stesso momento guardo nella stessa direzione in cui lui sta andando e chiaramente non vedo nulla se non sabbia o un palo o un sasso, non lo so. E lui in quel momento si trasforma, diventa un animale, una bestia della natura. Ed è come se gli arrivasse un raggio dal cielo, una luce, che comincia ad avvolgerlo e lì capisci che in qualche modo è come un illuminato, si trasforma. E in quei pochi minuti in cui è fuori che vedi che si stende a terra, scatta, guarda, osserva, sembra a volte nascondersi, poi riprende, poi rientra in macchina, mi guarda e mi dice ok, adesso possiamo andare. Ecco io di tutto questo alla fine scopro solamente magari dopo, quando mi mostrerà le anteprime della foto, del miracolo che è riuscito a compiere laddove io in prima persona, immagino milioni di altre persone, non erano riusciti a vedere. La capacità dell'arte, cosa significa? Indipendentemente da qual è lo strumento, se vivi in simbiosi con quello che è la tua passione nel voler trasmettere delle emozioni che possono cambiare anche la vita delle persone, ecco questa io la definisco arte, io la faccio con le mie gambe, non le mie esplorazioni. John la fa con la sua macchina fotografica. Per cui non ci sono differenze tra le esplorazioni fisiche e le esplorazioni viste attraverso l'occhio di una macchina fotografica, perché tutto qua è il segreto. Il segreto è che non ci devono essere differenze tra uomini che condividono una stessa linea di principio, una stessa passione, uno stesso sentire dentro profondo. Penso pregiarmi dell'onore di aver dato a John delle situazioni, delle location che erano vergini e pronte per essere in qualche modo così violentate da una persona che capiva che questa forma di violenza, perché entrava in luoghi che comunque altre persone non avevano fissato, era una violenza che però era una violenza dolce, costruttiva e molto comunicativa. È un po' come quando lui ha una pellicola vergine. La pellicola è nascosta, ha dentro un contenitore che va dentro una macchina fotografica, però l'impressione prima che rimane impressa sulla pellicola è la stessa impressione che ho avuto di lui. Tre aggettivi per John Pepper, domanda da un milione di dollari. Primo aggettivo, puro. Secondo aggettivo, vero. Terzo aggettivo, fratello.